a parlare in pubblico. Sicuramente sono doverosi ringraziamenti alla dirigente che ha permesso questa bellissima intitolazione, il sindaco e gli assessori per essere intervenuti e quanto hanno voluto gioiosamente aderire a questa proposta in effetti, quindi genitori, colleghi, cittadini, commercianti, tutti coloro che la conoscevano realmente, perché è inutile e insomma divagare. Se siamo qui oggi è perché sono prevalse di Paola le sue noti eccellenti, soprattutto la sua cultura e la sua grande responsabilità nella scuola. Voglio ricordare che è una maestra e un'educatrice e noi, chi l'ha capita ha riconosciuto questo, un'educatrice e soprattutto una persona assolutamente responsabile della pienissima occupazione della crescita dei bambini di scuola elementare e quindi Papa era proprio questo e noi stiamo qui oggi per ricordarla, a due giorni dal suo 65 e sono compriate proprio per questo. Vogliamo fargli un regalo come forse ne ha avuto un più bambino di scuola nella sua vita e questo credo sia il più bel regalo che possiamo fare. Adesso voglio introdurre la sua classe, quindi la maestra Giovanna che credo parla a nome della classe è stata una validissima, forse è brutto dire sostituta, però è stata una validissima insegnante e siamo contentissimi che ha preso il suo posto in maniera eccetera.